A Proda Catania, l'URP in rete per gestire segnalazioni e reclami, il sistema di gestione delle segnalazioni è una modalità attiva di comunicazione con i cittadini che valorizza un approccio di ascolto sistematico e strutturato dell'utenza da parte dell'organizzazione al fine di garantire un riscontro sulle proprie attività. A cominciare per facilitare il compito di monitoraggio delle segnalazioni è stata la Regione Emilia-Romagna che ha predisposto un software che rende possibile l'immediata visione dei dati per un utilizzo aziendale e un confronto interaziendale. E' l'assessorato alla salute della Regione Siciliana nell'obiettivo di sviluppare un sistema informativo regionale delle segnalazioni dei cittadini, ha voluto estendere l'adozione del software, concesso il riuso gratuito al policlinico Vittorio Emanuela, alle aziende sanitarie dell'area metropolitana di Catania che ne hanno avviato la sperimentazione simultanea. Dottor Bassa, parliamo degli obiettivi che si pone questo URP. E' un'azione concreta quella della riorganizzazione gestionale informatizzata degli uffici in relazione col pubblico delle aziende sanitarie della Regione che è tra gli obiettivi che sono stati portati avanti dai comitati consultivi che sono gli organismi istituzionalizzati dalla legge di riordino per la riqualificazione attraverso la partecipazione dei cittadini anche al miglioramento del servizio sanitario regionale. Nello specifico è il primo modulo oroformativo per attuare nella nostra realtà il software dell'Emilia Romagna che già ha sperimentato un coordinamento unitario informatizzato nella gestione delle segnalazioni dei cittadini. Dunque attraverso questo sistema i cittadini potranno farsi avanti con i loro reclami, le segnalazioni e dare un contributo al miglioramento del sistema in generale? E' proprio questo, la riorganizzazione informatizzata serve da un lato a far sentire i cittadini che contano di più e sollecitare il loro empowerment partecipativo che consente alla sanità di migliorare con gli stimoli giusti. Nello stesso tempo al servizio sanitario di avere informazioni integrate che consentano gli interventi di miglioramento anziché purtroppo come spesso avviene una condizione di raccolta a camera stagna di reclami che è il più possibile meglio evitare che arrivino. Invece le segnalazioni, i colpi di tosse dell'organismo devono essere attivati per saperne di più di com'è la salute dell'organismo.